No, non potevo esimermi dal commentare quello che è successo. Intanto, bentrovati, come state? Sono in trepidazione, in trepidazione per questo Milan-Juve che si avvicina, anche perché, ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno. Il Milan va a giocare contro la Juve da favorito. Io non mi nascondo, non faccio come quelli che dicono Ah, non è vero, la partita è sempre equilibrata. Se il Milan arriva contro una Juve che ha Bremer fuori, Cabal fuori, Blaovic fuori, che fino a prova contraria sono i titolari, perché c'è qualcuno che dice Ah, se Blaovic non gioca sei più, sei meno tranquillo, visto che Blaovic sbaglia un sacco di gol. In realtà è un titolare della Juve, eccetera. Dopo che hanno fuori questi giocatori, dire che il Milan non si è favorito è dire una bugia. Io non mi nascondo. Non faccio il piangina interista che vola sempre basso, eccetera. Io dico il Milan è obbligato a vincere. Se non vince adesso sarebbe ancora più grave, senza contare che siamo in due. Il Milan ha il problema, Teo è vero, però le ha in uno stato di grazia in questo momento. Pulisic che sta facendo molto bene, Morata che è rientrato bene anche con la Spagna. Quindi, cioè, dire che il Milan non si è favorito, ragazzi, sarebbe dire un'enorme bugia. Ma c'è un tema che sta... Perché poi adesso andiamo sulle novità di mercato, no? Che vanno in contrapposizione. Vedete, nel video di ieri vi ho detto, vi ho fatto notare come fosse assurdo, no? Che il Milan non andasse sul mercato, visto che, a dispetto di tutto ciò che dice Ibrahimovic, che siamo a posto così, eccetera, eccetera, è assurdo che sia vero che il Milan non voglia andare sul mercato, visto che deve vincere per poter entrare quantomeno in Champions, e poi, quindi, è uscito di conseguenza il nome. È uscito di conseguenza il giorno dopo. Cioè, io vi dicevo, ragazzi, non date retta alle parole di quello lì, perché tanto non conta niente, non dirà mai la verità, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, PAM! Gazzetta e Sky, Milan forte su Ricci. Però quello che... Adesso, fra poco approfondiamo il tema, e cos'è che risulta, poi dopo bisogna vedere, perché tanto lo sapete che è ancora un pochettino presto, ma il Milan è forte su Ricci. Oggi devo spezz... Guardate cosa mi tocca fare. Mi tocca spezzare una lancia a favore di Maurizio Biasin. Interista, tutti lo conosciamo, eccetera. Perché ha avuto una diatriba con Mauro Suma a proposito del ruolo di Ibrahimovic. Biasin sostanzialmente sostiene che Ibra deve stare... deve seguire più il Milan, deve comportarsi davvero team manager, eccetera. E Suma, che sostanzialmente, giustifica sempre Ibrahimovic, continuando a ripetere la solfa che Ibra non è nell'organigramma del Milan. Io, è vero che Mauro Suma non ha risposto a me, ma ha risposto a Biasin, però è incredibile come io, proprio ieri mattina nel video, parlassi proprio di sta roba qui e dicessi praticamente le stesse cose di Biasin. E io onestamente sentire che Ibrahimovic è giustificato a comportarsi come si comporta, perché poi di questo si tratta, solo perché non è nell'organigramma del Mira. Ragazzi, io onestamente con tutta la stima sportiva che posso provare per Mauro Suma dire questa cosa qui no, non ci credo, non ci credo. Addirittura c'è un punto in cui viene paragonato, in cui si viene detto a Ibrahimovic è solo un socio di Redbird, Ibrahimovic non ha solo, non è solamente il Milan, in riferimento magari anche alla Kings League, soprattutto alla Kings League che è stata facendo tanto scarpone in questi giorni, un po' come Berlusconi non aveva solo il Milan. Ecco ragazzi, cioè, a me quando è stato fatto questo passaggio, Ibra-Berlusconi onestamente mi sono un po' i brividi mi sono venuti. Io non capisco onestamente come si possa andare con tutta la buona volontà e cercando di andare a leggere il, come dire, il senso più sportivo possibile, come si può andare a paragonare Ibrahimovic con Berlusconi? No ragazzi, non ce la faccio, non esiste. Per qualunque tipo di paragone, ma non esiste. Per l'amore che Berlusconi ci metteva al Milan, per i soldi che Berlusconi metteva di tasca proprio al Milan, per la serietà che metteva Berlusconi di tasca proprio al Milan. Cosa c'entra Ibrahimovic? Cioè, in questo momento, al massimo, guardate cosa vi dico, al massimo si potrebbe paragonare, non lo so, Ibrahimovic c'è un non lo so, ha un Mirabelli e un fassone? Cioè, io non so se Mirabelli e un fassone avessero qualcos'altro, ma è per dire, no, che quello che ha fatto Ibrahimovic in questo momento al Milan è nulla. È nulla. Come si può, ragazzi, andare a paragonare Ibrahimovic con quello che ha fatto Berlusconi? Cioè, io mi viene la pelle d'oca al solo paragone. Che poi Ibrahimovic non sia nell'organigramma, ragazzi, ma non me ne frega niente, i tifosi di Milano hanno, prima di tutto, meritano rispetto, ok? Prima di tutto. La competenza può anche non esserci, può anche arrivare col tempo, sta studiando e tutto, ma io non posso accettare che Ibrahimovic dice, io faccio post criptici, io sono il re di tutto, io sono qui, io sono là, il tifoso del Milan deve capire, cioè, non ci sono mai messaggi diretti, mai a rincuorarci, no, ragazzi, non esiste questa cosa qua, quindi mi spiace, ma da questo punto di vista io sono d'accordo con Maurizio Besini. Sul mercato, il Milan vuole, pare, che creda tanto in Ricci, tanto che a gennaio starebbe per spedire Luca Jovic dai Granata, Granata orfani di Zapata, Granata, Zapata prende lo stesso stipendio di Luca Jovic e in questo modo il Milan crede di poter fare una sorta di prelazione affinché, affinché, insomma, il Milan possa anticipare la concorrenza sul prossimo mercato di giugno. Poi, voglio citare l'amico Fabrizio, Fabri che dice una storiella, entriamo nella storiella del Milan interessato a Ricci, Milan vicino a Ricci, Milan vicinissimo a Ricci, Milan contatta l'entourage di Ricci, Milan apprende la richiesta dell'entourage di Ricci, Milan va su GVNN a caso e poi Milan comunicato non siamo mai stati interessati a Ricci perché non è il profilo da noi ricercato. non lo so, mi ha fatto tanto ridere e quindi ve l'ho riportato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti su questo argomento e sul discorso Ibrahim vice Berlusconi. Noi ci vediamo alla prossima.